partiti in vantaggio si porta allo steccato shadow ball of line inseguito all'esterno da special speed quindi per linee interne itinere a largo di tutti i chassis quindi bushalem ed in coda goodbye kiss allo steccato sempre shadow ball of line in leggero vantaggio tallonato da special speed a largo dei due bushalem con più all'esterno chassis mentre ha trovato un varco all'interno anche itinere siamo a 200 dal palo con itinere bushalem e chassis in lotta all'interno itinere a largo bushalem quindi ancora chassis nel tratto finale itinere in leggero vantaggio attaccato da bushalem i due vicinissimi sul palo al terzo posto chassis davanti a shadow ball of line rivediamo questo bel finale tra paolo aragonio e salvatore basile in sella rispettivamente itinere numero 1 e bushalem numero 2 che nel tratto finale hanno avuto battaglia un bel duello che si è protatto fin sul palo probabilmente a favore di salvatore basile in sella a itinere numero 1 dello schieramento poi il 2 di bushalem e il 4 di chassis ma visti i minimi distacchi è consigliabile aspettare il risponso del giudice d'arrivo